Una domenica soleggiata ha accolto i numerosi visitatori che hanno deciso di scoprire i colori e i sapori della Fiera del Fiore di Foiano della Chiana. Tantissime persone che si possono vedere dalle immagini che stanno animando il centro storico di Foiano. Anche quest'anno la 38esima edizione è un mix di espositori floreali, prodotti tipici, in particolare ricordiamo i produttori del Ciambellino. Quest'anno gli stand per la valorizzazione dell'Aione della Val di Chiana e poi musica, animazione per bambini, tante attrazioni che caratterizzano e animano questa festa e che crediamo che anche quest'anno sia un connubio riuscito e gradito dalle tante persone che da questa mattina stanno frequentando e acquistando gli stand della Fiera. Un aglione gigante campeggia, qui il Carnevale di Foiano ha incontrato quella che è la vera tradizione della Val di Chiana, quello che accanto a te non è vero ma quello che è dietro di te agli stand è tutto vero. Sì, in realtà quello l'abbiamo tolto dal campo in mezzo agli altri aglioni, era in mezzo agli altri aglioni fino a ieri sera e l'abbiamo tolto per metterlo sui vasi e farlo vedere qui in fiera alle persone che magari non si rendono neanche conto di come sia fatta la pianta, di come sia fatto il bulbo e tra l'altro si vede anche il fiore che sta spuntando. E nei piatti che diamo oggi, nelle varie degustazioni, c'è anche un crostino fatto ad esempio con i fiori di aglione, in modo tale da far capire che in realtà non si butta via nulla.